Utilizzare le immagini satellitari per contrastare l'abbandono dei rifiuti. È questa l'intenzione del protocollo d'intesa firmato dall'AMA in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana e la società Egeos. Obiettivo della collaborazione? L'utilizzo di sequenze di dati provenienti dai satelliti al fine di contribuire all'analisi e al controllo nelle aree sensibili dei fenomeni di abbandono indiscriminato. La tecnologia verrà sperimentata anche per individuare l'evasione legata a mutamenti non censiti del territorio come le nuove edificazioni. Per la prima volta la frequenza di acquisizione sarà su base settimanale. Per vincere una sfida impegnativa come quella del decoro urbano, dobbiamo anche essere pronti a cogliere e sfruttare tutte le innovazioni a disposizione senza temere di percorrere nuove strade e strategie, ha dichiarato la presidente di AMA Luisa Melara. Attraverso le preziose competenze di tecnici altamente specializzati come quelli dei nostri due importanti partner vogliamo mettere a disposizione nostra e del Campidoglio l'opportunità di sperimentare strumenti all'avanguardia utili per mappare e monitorare meglio l'intero territorio della capitale. L'accordo sperimentale gratuito durerà quattro mesi e terminerà il 31 dicembre.